Ciao a tutti e buongiorno vi faccio vedere questo lavoro di analisi sui portieri che ho fatto con la Pixelot Air ho posizionato la telecamera a metà della mezzaluna al di fuori dell'area di rigore e ho cliccato il tasto registra a questo punto ok se io clicco il tasto registra come potete vedere il video ok modalità zoom sulla palla per cui in questo momento l'intergenza artificiale sta cercando una situazione di gioco in cui dovrebbe esserci la palla e i giocatori questo tipo di inquadratura non mi è utile perché? perché logicamente il campo di gioco non è quello della partita ma è di allenamento come faccio a passare quindi nella modalità utile per il mio lavoro? molto semplice clicco questa icona che è passaggio in modalità panoramica e a questo punto da zoom sulla palla mi dà la possibilità di vedere tutto il terreno di gioco ossia la zona diciamo dell'area di rigore e la zona laterale eccolo qua spostandomi con il mouse a destra e a sinistra posso selezionare la parte di campo che mi interessa posso cliccare il tasto registrazione e mi va anche a registrare quello che vado a inquadrare poi in maniera molto semplice con il mouse posso andare a zoomare diversamente io comunque non consiglio questa visione questa sezione per poter analizzare bene quello che è allenamento i portieri per cui consiglio sempre di cliccare questa icona e di passare alla modalità panoramica eccola qua questa è la modalità panoramica mi fa vedere tutto il mio terreno di gioco che ho selezionato con l'app che voglio riprendere è una modalità a 4k per cui potete rendervi conto che è sicuramente migliore rispetto a quella precedente in questo punto se ad esempio vado avanti con la registrazione ok posso comunque scegliere la parte di campo che mi interessa posso andare a zoomare con la rotellina ok e quindi ho una visione corretta di tutto quello che è il mio lavoro attenzione ricordatevi sempre come vedete che essendo questo un video caricato nel cloud in questo caso sono collegato a quello proprio cellulare la fluidità ok del lavoro da salvo che prenderà soprattutto da la rotellina qui vedete il collega stava riprendendo una ripresa nella telecamera quelle tradizionali portate a lato quindi abbiamo posizionato la retro e abbiamo fatto anche un altro lavoro che è troppo dei video molto volentieri nel prossimo post che vado a mettere qui sui social ciao a tutti e per qualsiasi tipo di informazioni vedete tolgo lo zoom sposto il campo vado a mettere lo zoom mi posiziono telefonatemi ciao a tutti da lorenzo consulente d'italia di pincere ciao ciao